Amici di Facebook, stiamo al torrente Salsola, qui abbiamo le insegne sulla strada statale 160, il comandante Marasco che vi parla, qui con l'ispettore aiuto di Tommaso Mangini. Allora Tommaso che situazione è? Stanno duri, l'acqua non da purare, l'ha finito nel Candelaro di Manfredonia. Madonna, non è normale. Vediamo, faccio la zoomata, guardate, l'acqua è sporca, l'acqua non è depurata. Questa va a finire tutta nel torrente Candelaro, nel golfo di Manfredonia. Non è possibile che il subappellino, Dauno e tutta la capitanata da Foggia verso San Severo, verso i monti Dauni, fanno questo danno a noi del golfo di Manfredonia. Questa video denuncia affinché le autorità intervengano per migliorare e vedere le acque, non si può stare, non si può stare, una puzza, andiamo via, andiamo. Madonna, Madonna, allora ecco dal torrente Salsola a voi i commenti e condividete. Madonna che pozzo, Madonna, un figlio da pozzo.